eccoci qui anche oggi buongiorno vi siete stufati di vedermi ma in realtà ormai l'avevo annunciata quindi la dovevo fare sennò però speravo che mi arrivasse un altro pacco e non mi è ancora arrivato quindi vi faccio vedere quello che vi dovevo far vedere in questi insomma da ieri che mi sono rimaste le cose adesso volevo aspettare se arrivava qualcuno perché ancora non vedo nessuno è anche un orario un po così e sono anche mezza in ritardo perché la volevo fare alle tre e mezza però ho avuto un po da fare stamattina sono andata a consegnare dei documenti per la dichiarazione dei redditi che vi ho detto ieri e purtroppo c'è sempre da fare qualcosa insomma anche a livello burocratico io sono un po spenta oggi non so se lo vedete ma non mi sento tanto in forma comunque ci proviamo lo stesso vi voglio solo far vedere due cosine e intanto invito qualcuno voi cosa state facendo mi raccontate qualcosa io spero che i miei bambini stiano bravi nel frattempo e che non si scannino perché sono bravissimi però si sa poi una è più grande l'altro è più piccolo ciao Isabella benvenuta e il mio grande a dieci anni il più piccolo ne ha cinque quindi la differenza di età si fa sentire e il grande meno male che è molto molto paziente ciao Barbara benvenuta grazie per essere qui e quindi niente ogni tanto giocano bene ogni tanto li senti urlare perché Gabriele è molto paziente il mio grande però giustamente insomma io lo so cosa vuol dire essere sia sorella minore che sorella maggiore quindi mi metto un po nei suoi panni e insomma dei panni di tutte e due in realtà quindi cerco di non fare distinzioni allora adesso vi faccio vedere le due cosine non aspetto oltre qualcuno qualche occhietto c'è quindi intanto vi faccio vedere quello che mi era rimasto mi faccio vedere questi orecchini qua che me li sono già messi sono molto belli e mi piacciono tantissimo veramente questi qua e secondo me sono veramente stupendi il mio problema che mi hanno fatto mi sono accorta in questi giorni mettendo in questi orecchini che mi hanno fatto il buco troppo basso quando ero bambina e quindi mi pesano un po dovrei farmi fare un goccino più alto in modo che si distribuisce meglio il peso perché altrimenti questi orecchini qua non mi stanno bene purtroppo me li metto lo stesso è perché sono troppo belli poi magari coi capelli lunghi un po camuffo il difetto ciao federica benvenuta e questi qua adesso sono in offerta finché non finiranno sono al 25 per cento di sconto invece che 7 99 5 99 io non so voi però ecco questi qua sono le mie diciamo i miei gioielli preferiti perché sono luminosi sono colorati allegri anche quello questo qua in realtà è molto carino anche gli orecchini però questi qua secondo me sono bellissimi e infatti me li sono presi subito perché non volevo che finissero prima di accappallarmeli allora e poi vi volevo far vedere ancora questo che l'altra volta in realtà me lo sono svanito e questo fa anche costa pochissimo vi ricordo vabbè hanno sempre certificato ovviamente e c'è scritto anche questo prodotto non provoca reazioni allergiche che ha superito ha superato i controlli di qualità e garantito per qualsiasi difetto di fabbricazione durante tre mesi questi qua e poi ognuno ha il suo alcuni c'è scritto sei mesi e insomma la seconda allora questo qua è un set questo set costa 6 99 ve lo dico già e si chiama moon come la luna abbiamo gli orecchini che è una pallina mi dispiace perché ecco così c'è un po una luce così oggi perché è un po nuvolo non so da voi qua è un po nuvolo e poi c'è il girocollo che è così trasparente e poi c'è la pallina bellissimo è molto semplice ma molto bello anche gli orecchini fanno veramente la loro figura e questo set appunto 6 99 finché appunto vabbè queste cose qui sono troppo carine finiscono in fretta bisogna se le volete bisogna frettarsi perché altrimenti si rischia e un'altra cosa che vi volevo dire è che vabbè io prendo sempre qualche pensierino per le persone che ho vicino che magari ordinano tramite il mio ordine personale magari prendo qualcosina in più tipo adesso ho preso dei temperini doppi magari ve ne faccio vedere uno tanto un numero devo tenere non li regalo tutti è così doppio si apre e di solito appunto prendo qualcosina così ma altrimenti se uno facesse l'ordine per per racconto suo nell'ordine qualsiasi importo voi facciate arriva sempre un pensierino ad esempio adesso e possono essere tre campioncini di profumi oppure cos'è che c'era l'altra volta non me lo ricordo più si altri campioncini di profumo vabbè adesso arriva questo profumo qualche nuovo che si chiama brisa che adesso mi sono anche scritto vi dico gli accordi gli accordi del profumo allora grumato aroma grumato marino con accordi floreali allora di testa mandarino e foglie verdi non so se l'ho riuscita a vedere poi c'è la le note di cuore giacinto silvestre e di fondo cedro ed è buonissimo questo qua adesso questo qua è quello vuoto ma io ce l'ho anche pieno perché me ne è arrivato uno per ogni ordine è veramente buonissimo vabbè dirai tanto non ve lo posso far sentire che cavolo lo prendo a fare anche io no vabbè se qualcuno mi abita vicino e glielo posso far sentire io altrimenti appunto in ogni ordine che voi fate comunque vi arrivano ciao stefalia benvenuta vi arrivano sempre un regalino che arriva sempre adesso sta arrivando appunto questo qua che il profumo nuovo e che mi dovrebbe arrivare appunto proprio il barattolino e costa 12 95 eccolo lì è buonissimo veramente ho notato anche sono andata per curiosare un po sul sito che c'è anche il profumatore per la macchina della stessa profumazione ciao ciao terry benvenuta e quindi poi penso che prenderò anche quella perché è veramente veramente buono cioè io prima profumi non ne usavo veramente fino a l'anno scorso e poi vabbè nella vita si cambia sempre e in meglio si spera quindi ho iniziato anche a usare questi profumi oltretutto adesso mi sono arrivati due regali mi sono arrivati ciao maria benvenuta benvenuta mi sono arrivati questi e questi e anche questo quindi a volte esagerano con i regalini nei nei pacchi poi vi volevo far vedere questo qua che però lo devo ancora provare e poi vi farò sapere però ve lo faccio vedere lo stesso allora questo qua è uno struccatore molto molto strano direi ma è uno struccatore adesso mi sono scritta struccatore viso in stick con il burro di karité quindi per idratare quindi si passa è fatto così ero molto curiosa di provarlo sono sincera e appena stasera lo provo perché adesso prima di di far di usarlo volevo farvelo vedere nuovo se no e poi si passano i dischi di cotone c'è scritto però poi vi dico adesso io non l'ho ancora usato ve lo dirò e quanto costa me l'ho anche scritto mi sembra non me lo ricordo più benissimo non me lo sono scritto comunque tanto vi dico poi come funziona vi dico anche il prezzo ma mi sembra che era sui 2 3 euro una cosa del genere anche perché ci sono veramente un sacco di sconti e anche sui makeup adesso vi faccio vedere queste le profumazioni per la casa sono fantastica prova le bacchette si me lo sono preso ho preso il ho preso il set quello body and spirit che ha le bacchette il profumatore per la macchina quello per la casa quello lì che dici tu che è buonissimo veramente sì e poi ha quello per le per gli armadi l'ho fatto vedere nell'altra diretta adesso vedi la prossima volta mi porto tutto dietro così eventualmente se esce fuori il discorso li faccio vedere e poi è anche carino come mi piacciono quei perfumatori lì mi piacciono molto più che quelli che spruzzano mi piace quello lì perché fa ambient e poi insomma non rilascia proprio nell'ambiente lo spruzzo così del profumo che per carità a volte poi uso anche quelli e non è che allora adesso voglio farvi vedere questa matita per le sopracciglia che è scontatissimo almeno 60 per cento costerebbe 2 95 ora costa 0 95 0 95 finché non finirà poi è ottimo per togliere il trucco e lascia la pelle morbidissima e per gli occhi strucca benissimo e non brucia grande grande grazie per la tua testimonianza vedi io non l'avevo ancora usato e invece abbiamo la nostra terry che ci fa da testimonial grazie mille sei un tesoro e ora vi faccio vedere vabbè la matita per le sopracciglia questa qua è nera me l'ha ordinata una mia amica e anche il pennellino questa qua 0 95 io vi dico un po i prezzi che ci sono perché finché non finiscono e ci sono questi saldi anche sul make up su tutto insomma la cosmetica su qualsiasi cosa in realtà anche appunto sui sugli orecchini sui girocolli sono un sacco di cose veramente scontatissime quindi se uno vuol fare anche un regalo per dire anche vuole regalare dei trucchi magari cose utili che uno usa oppure magari anche la bigiotteria che fa sempre piacere o argento c'è un sacco un sacco sempre un sacco di sono sempre un sacco di sconti questa settimana ci sono anche dei bellissimi orecchini con la metista in oro e come gioielli è un anello fenomenale che poi lo pubblicherò ora non posso pubblicare tutto insieme se no non mi seguite più dite ma sta qua non fa altro che pubblicare a maletta però a volte mi viene voglia perché ci sono un sacco di cose e non so cosa pubblicare vorrei farvi vedere tutto ma capisco che insomma poi uno veramente mi scansa perché dice sta qua mi fa spendere no scherzo allora poi vi faccio vedere questa matita che c'è anche color sul rosa questa qua è sul bordeaux è doppia per le labbra e anche questa è scontata e viene solo un euro invece che 2,95 un euro e vi dicevo c'è anche appunto sul rosa poi cos'è che mi ero preparata da farvi vedere uh sì questa qua è stupenda questa qua la devo consegnare e per una mia amica mi deve arrivare anche a me per il mio bambino però questa qua è da femminuccia la valigetta di minni è molto carina anche per fare un pensierino è in offerta invece che 19,95 me lo sono scritto 6,95 controllo sì 6,95 cioè sia così che con topolino e non è vuota ma dentro ha il profumo ora lo vediamo e l'ho tenuta apposta per oggi avrei voluto che arrivasse anche quella di topolino per mio figlio così vi facevo vedere anche quella ma non c'è ancora non è arrivato quindi dovete aspettare e c'è il profumo che è anche insomma anche bello grosso sono 100 ml di profumo e per fare un regalino è molto molto carino secondo me fate una bella figura vabbè dentro poi toglierà questa la bimba e ci metterà tutte le sue cosine che vuole poi le femminucce si sa che sono molto... gli piacciono queste cose a parte che anche mio figlio quando gli ho detto lo vuoi questo qua? sì era tutto contento quindi poi ve lo farò vedere ve lo farò vedere appena arriva è molto molto carina vediamo cosa dice Terry sono ottime le matite morbide e le labbra restano colorate non necessita rossetto io non le cambierei con altre provare per credere grande grande grazie grazie per la tua testimonianza devo venire anche io nelle tue dirette così ci scambiamo questi aiuti perché comunque fa veramente piacere e ti ringrazio tantissimo tantissimo ora vi faccio vedere questa che costa 3,95 è una cipria profumatissima questa qua chiara e ce ne sono anche ovviamente di altre colorazioni e insomma trovate veramente di tutto appunto dentro anche nel reparto make up ci sono vabbè ovviamente anche i i mascara altri rossetti ci sono i rossetti col correttore incorporato che io non avevo mai visto adesso la prossima volta me lo voglio prendere uno per farvelo vedere solo proprio per quello perché io adesso ce ne ho ancora del mio quindi non ne avrei bisogno però prossima volta e tanto mi voglio comprare non so se avete visto forse l'ho pubblicato solo sulla mia pagina anzi se la volete andare a vedere è l'angolo dello shopping e della moda di veronica dello shopping online perché ci ho messo un titolo molto corto così ve lo ricordate scherzo magari poi vi segno il nome nel post e lì ho pubblicato ci sono delle bellissime scarpe estive in raffia e anche la borsa sono bellissime sono scontatissime solo questa settimana fino a domenica quindi se volete andare a dare un'occhiata e se vi piacciono è meglio appunto ordinarle entro domenica perché sennò poi aumentano il prezzo e insomma sarebbe un peccato e vediamo cosa vi volevo dire ancora vabbè vi volevo dire ancora che ho questi buonissimi profumi allora questo qua l'ho fatta vedere l'altra volta ma ve la faccio di nuovo vedere perché è ancora scontata a un euro la crema per il corpo che è veramente buona e abbiamo anche il profumo c'è anche il profumo per capelli veramente però adesso sul sito non lo trovavo e non vorrei che fosse finita poi se vi interessa ve lo faccio sapere questo qua costa 9,95 e questo qua costa un euro e sono abbinati ovviamente alla stessa profumazione e anche qua mi sono scritta le note allora questo qua è floreale alla frutta con accordi di ambra in vaniglia e questo qua cosa che vi volevo dire ah vabbè la crema la potete usare giornalmente ovviamente per idratare il corpo e per profumarvi e volevo dirvi anche questo che se diventate clienti Christian Lai adesso arriva mio marito quindi si vabbè se diventate clienti Christian Lai partecipate anche al programma clienti di fidelizzazione quindi vi arriverebbe questo nel secondo ordine gratuitamente e per altri due ordini successivi sempre un regalo quindi anche questa è una cosa buona che fanno in Christian Lai oltre a mettervi sempre un regalino in ogni ordine quello non vi manca mai ora io ho finito meno male perché è arrivato mio marito vi volevo solo dire che ho acquistato anche siero e crema lavave di lumaca e che vi lascio il video della nostra collega Morena perché lei ha avuto dei risultati straordinari sull'acne e quindi vi posto direttamente la sua esperienza perché avendola fatta di persone avendo avuto dei risultati veramente ottimi è inutile che ve ne parlo io ve ne faccio parlare direttamente da chi ha avuto questa esperienza è fantastico il profumo è vero è vero è buonissimo mi piace anche a me e sono molto guarda veramente io prima non li usavo invece adesso non ne posso più fare a meno me lo metto anche in casa per dire ora è arrivato mio marito io scappo perché mi vergogno troppissimo eccezionale vabbè di lumaca non teme confronto sì è vero è vero oltretutto hanno fatto le confezioni di vetro ah vi dico anche il prezzo costano sia una che l'altra 9,95 e poi vi posto ciao mo vi posto il video di Morena che poi la taggo anche perché è giusto che insomma abbia le sue la sua come si dice lode perché ha fatto veramente dei video bellissimi e li ha passati a tutte noi siamo grazie ciao grazie a te grazie Terry veramente siamo un team veramente unito fantastico perché anche se siamo diversi team ovviamente abbiamo un unico team Italia in cui appunto come vedete ci aiutiamo a vicenda ed è una cosa bellissima se non c'è una c'è l'altra e chi acquista si fa le foto delle cose magari le passa le altre siamo veramente un team veramente in tutto in tutta Italia che ci aiutiamo facciamo formazioni grazie Maria te sei sempre incoraggiante e ti ringrazio tanto infatti vi dico adesso alle 5 lunedì abbiamo la formazione sui prodotti e quindi poi posteremo sicuramente come sempre la nostra riunione e e niente e volevo dirvi un'altra cosa in realtà volevo dirvi questo che a chi fa piacere siccome che non posso appunto pubblicare tutto su Facebook e neanche su Instagram perché non mi piace avere la pagina piena di pubblicità insomma non è neanche ciao Stefania ho visto la tua faccia se non sbaglio che mi faceva la manina grazie e dicevo se vi fa piacere il mio numero di telefono ve l'ho detto ve lo scrivo anche 349 223 7025 349 223 7025 perché nel mio stato di Whatsapp io metto sempre le foto ne metto tante sinceramente lì perché comunque penso appunto che uno se vuole andarlo a vedere è una scelta personale entra e se lo va a vedere lì non è diciamo che su Facebook mi sembra di più di dar fastidio tra virgolette ciao Steri tu vedi che avevo visto bene invece sullo stato di Whatsapp è proprio una scelta se uno vuole sa che io pubblico lì e va a vederseli senza imposizioni e invece che su Facebook invece uno che si trova sempre le pubblicità della stessa persona secondo me si scoccia si stufa e a me non piace scocciare la gente quindi se vi fa piacere ve lo scrivo comunque c'è quasi tutti i miei post c'è il link diretto voi lo potete cliccare andate direttamente al chat con me comunque se mi volete fare un saluto mi fa piacere altrimenti vi segnate il numero e potete guardare il mio stato veramente io metto le promozioni giornalmente metto un sacco di roba perché poi tutto quello che vedo che piace a me lo pubblico sinceramente e quindi non smetterei mai a volte mi devo dare un contegno perché altrimenti hai 500 foto poi uno si stufa anche lì giustamente e niente dai allora vi saluto vi invito anche a vedere la mia pagina se volete o insomma chiedermi il link se non sapete se non la trovate e niente vi ringrazio a tutti voi che siete entrate e a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha fatto un saluto adesso vi saluto io che vado anche tra un po' poi appunto tra tre quarti d'ora abbiamo la formazione che non me ne perdo una sinceramente perché sono fantastiche abbiamo tutti bisogno di imparare grazie grazie per l'abbraccio abbiamo tutti bisogno di imparare quindi se uno vuol fare questo lavoro con serietà e con professionalità è giusto seguire le formazioni visto che ce l'abbiamo abbiamo un'azienda dietro che è dietro alle spalle che ci sostiene e ci guida e quindi insomma perché perdersele e vi ringrazio tantissimo a tutti e ci vediamo presto perché ve lo dico in questi giorni vi stresso di nuovo perché mi arrivano altri ordini e ve li voglio far vedere mi piace troppo farvi vedere gli ordini che mi arrivano quindi chi vuole venire in diretta è benvenuto metterò magari degli avvisi se li vedete e così se vi fa piacere venite in diretta con me grazie mille a tutti grazie Stefania grazie a tutte veramente un bacio grande buon pomeriggio e buon proseguimento di tutto a presto